live la prima cosa che non posso non notare Rico è che tu c'hai una ripresa perfetta, si vede che sei proprio è più forte di te, anche se ti metti lì che aspetta che mettono la tua camera così al volo, perfetto cioè la luce perfetta, sei perfetto non vale, non vale ma sì magari una lente un pochino più carina valeva la pena prenderla per questi due mesi di stampa e interviste però sai poi la passione per la fotografia ce l'ho sempre un po' avuta però vedi è proprio una dimostrazione dove se uno ha l'occhio la competenza, la capacità anche se metti una camera così al volo tac subito l'immagine è ottima quindi non potevo non notarlo ecco mi hai subito colpito Enrico ma dove sei di bello? sono a Berkeley nella California del nord diciamo qua nella Bay Area vicino a San Francisco Pixar è qui proprio nella Bay Area per cui siamo non siamo tanti pensano siamo a Los Angeles ma siamo più a nord ah ok vedi anch'io pensavo che foste lì in mezzo alle star Hollywood ogni due minuti cioè passa Brad Pitt scusa c'è Brad un secondo e quindi e come l'avete affrontato questo periodo a livello di di lavoro ufficio a distanza come funziona sì la cosa che per un attimo un po' come tutti abbiamo avuto un po' di panico perché non sapevamo se riuscivamo a continuare anche a finire il film c'è successo proprio mentre stavamo entrando nella shot production del film per cui si iniziava proprio a fare animazione layout da diciamo ideazione storyboard scrivendo si andava veramente a produrre e siamo rimasti a casa la fortuna è quella che abbiamo delle tradici per cui riescono a la maggior parte di noi siamo riusciti a lavorare da casa tutto su zoom tutto ovviamente con difficoltà di comunicazione è un pochino più lento perciò abbiamo avuto tanti ostacoli per esempio non sapevamo come registrare gli attori abbiamo dovuto mandargli un ipad con microfono e fare sessioni su zoom gli guai vari poverino Jack Dylan Granger che è Alberto nel nostro film bravissimo attore era nello scabuzzino di sua madre tra le gonne di sua madre con coperte in giro per avere il suono per attutire il rumore per cui un po' di guai ma ora che ce l'abbiamo fatto dopo un anno e mezzo di produzione è pazzesco che in effetti abbiamo fatto tutta la produzione da casa ostacoli un po' di rallentamenti lunghe ore perché alle volte sei lì a mandare email invece che avere una chiacchierata per 5 minuti però ce l'abbiamo fatta ce l'assi fatta per cui insomma a livello tecnico la nostra crew ha fatto veramente delle bellissime ha trovato tutti questi modi diciamo togliersi dai guai grande devo dire che come dire una volta che uno ha sviluppato questa capacità di produrre anche in questa situazione come dire puoi produrre un film in ogni in ogni evenienza ecco quindi è incredibile questo perché un tempo invece magari come facevi insomma se non eri lì insieme sarebbe stato magari impossibile allora devi sapere che io avendo diciamo essendo quadripadre non so come si dica ho avuto per anni questa strategia sui film d'animazione andavo a vedere il film prima al cinema quando i figli erano più piccoli così quando andavo con loro facevo il fenomeno no per coltire era una tipica di un mio amico che usava in realtà con le ragazze con cui usciva dove andava a vedere prima il film poi quando portava la ragazza lei diceva mamma mia ma è un intuito io faccio prima la stessa cosa e quindi ho alcuni film che ho visto miliardi di volte perché poi alla fine dei conti mi sono reso conto adesso con la parte digitale tu hai il film sul portatile tuo il film su Netflix di lì il film aspetta ma non ce l'abbiamo anche su questo portatile no è inammissibile allora compralo e quindi tu un film ce l'hai miliardi di volte e lo vedi lo continui a vedere se i film sono belli li continui a vedere quindi devo dire che avete questa capacità di creare poi queste queste storie magiche ecco che continui a riguardare all'infinito ecco ma perché secondo te cioè qual è il motivo per cui riesci a agganciare così un pubblico che poi è planetario non è solo un pubblico specifico ma io avendo appena questo essendo la mia prima la prima volta che faccio la regia di un film e avendo appena avuto l'esperienza e secondo me è il livello di dettagli e di performance che mettiamo in ogni in ogni shot perché io per esempio mentre lo facevamo guardi una bella scena di animazione e stai guardando il personaggio principale ma poi c'è qualcuno nel retro che fa una cosa buffa inizi a ridere inizi a notare non lo noti subito ma quello è un buon esempio per dirti cioè ci sono tante layers dove ci sono altre cose che mettiamo dentro perché ci sono tanti tanti animatori dei talento e specialmente in un film come Luca noi abbiamo veramente proprio attivamente cercato di mettere tante piccole letterine d'amore a un po' tutto perché avevamo le segnaletiche nella cittadina nel paesino ogni cosa visiva che era italiana mi dava l'opzione l'opportunità di metterci un po' di sapore e metterci un po' anche belle lettere d'amore verso il cinema anche la lingua ho messo un po' di genovese dove potevo ci abbiamo messo un po' di tutto dimmi Enrico come è nato questo film cioè un giorno ti chiamano e ti dicono Enrico eccolo qua c'è un film che si chiama Luca è la regia tua vai o come o come è stata proprio lì la parte iniziale parte iniziale qui inizia un po' più come se nel dietro della classe dici scusi scusi e magari ci vuole un attimino perché vedano la tua mano alzata avevo fatto la regia di un cortometraggio ma ci ha voluto un paio d'anni prima di veramente proporre devi dici posso proporre qualcosa e ti dicono di sì e poi proponi la prima volta che ho proposto scusate se ti interrompo quando dici lo proponi lo proponi a chi perché un tempo era Steve Jobs supremo e mi immagino solo lui che decide essere tutto oggi a chi lo proponi oggi si propone a Pete Docter che è il nostro diciamo che è il regista di Soul e di tantissimi bei film ma un diciamo il nostro boss creativo the creative officer e anche un gruppo di altri registi lo proponi in bozzo diciamo per cui li chiamiamo diamonds in the rough c'è tanto rough spesso intorno al diamante e appunto ti danno un ok di iniziare a svilupparlo però a Pixar siamo noi registi che vogliono che ci sia qualcosa di personale che ci sia qualcosa che proponiamo proporre noi la chiamiamo pitch fai una pitch e appunto vai un po' a parlare di qualcosa di interessante gli dai un'idea di cosa vorresti parlare per cui la prima pitch aveva già il mio amico migliore il setting della Liguria abbiamo la fortuna di essere cresciuti a Genova eravamo sulla riviera di Levante volendo parlare di amicizia di quelle amicizie importanti e aveva già l'idea di mostrilli diciamo dei mostri marine per cui vogliono vedere un po' divisivi per cui nel pitch iniziale che cosa devi portare cioè solo un'idea delle slide o già 15 secondi di animazione cosa devi portare vai a dare un'idea della storia in bozzo con il più cioè ognuno fa un po' quello che fa a me piace fare matite e acquarelli per cui gli davo ho fatto un disegno di quattro vecchietti che si prendevano un caffè fuori un bar ma uno era un mostro marino che si faceva caffè dicendo what if e se se ci fosse un'altra un'altra vita che non sappiamo in questi paesini e se un ragazzino avesse questa cosa da nascondere che può sembrare che può sembrare umano ma invece sotto sotto è un mostro marino per cui vuoi vai qualche disegno e anche ispirazione per esempio la carta marina sono queste bellissime vecchie mappe che avevano tutti questi bei mostri marini da una parte dove non si sapeva dove andava al mare c'erano questi bellissimi mostri marini per cui fai il primo pitch e diciamo l'head of creative il super top creative head dice ok ma ok per che cosa per fare qual è il prossimo step si inizia il viaggio il viaggio che devo dire inizia a cercare collaboratori per cui inizia a intervistare qualche scrittore io non sono certi certi registi sono proprio scrittori io sono un pochino più visivo perciò sapevo che avevo bisogno di una collaborazione con uno scrittore inizi a collaborare pian pianino inizi a fare un treatment lo chiamiamo diventare metti più dettagli più dettagli fino a che arrivi a una sceneggiatura e abbiamo un primo bozzo della sceneggiatura e poi iniziamo a fare storyboard con animatics animatics vuol dire noi facciamo storyboards molte volte tutte diciamo mettiamo un palinsesto molto abbozzato però abbiamo suono abbiamo dialoghi per cui tutto schiacciato diciamo e lo guardiamo e vediamo ok questo questo quest'altro non funziona all'inizio c'è tanto che non funziona cerchi di tenere le cose che funzionano riscrivi lo rimetti su dopo tre mesi sui tre o quattro mesi lo rimettiamo su molte volte finché ovviamente speri di avere tutto che funzioni ecco ma varie curiosità io Enrico scusa sono curioso ti chiedo cose magari scontate banali per te ma magari possono interessare chi ci ascolta quando tu hai l'ok per partire ad esempio per partire con Luca in Pixar viene già stabilito il budget e si dice ok allora eccoti qua c'è un budget x milioni per farlo oppure è come dire solamente un test e poi si stabilisce che livello di investimento c'è perché magari non so Soul o non lo so The Incredibles è una cosa e magari ci sono altri altri film di animazione che sono minori o sono i shorts quindi possono essere vari livelli come funziona quella parte di solito è quella è la produzione per esempio un produttore va veramente a curarsi di quello di solito i nostri film sono abbastanza hanno la stessa diciamo produzione livello cerchiamo di stare sempre nel budget certi vanno un po' oltre i tempismi sono quasi più importanti perché ovviamente abbiamo tantissimi film uno attaccato all'altro e se uno va a lungo metti nei guai quello dopo perciò inizi un po' inizi a avere per noi diventa quasi meno budget e più ore e gente quando hai tutti il talento per cui è molto complicato perché devi avere ci sono talmente tanti dipartimenti diversi quando iniziano quando hai la maggior parte della gente ma quello che succede è che la cosa importante è capire quando esci e all'inizio non lo sai perché vedi quando si sente pronto sono un po' come aerei su un aeroporto pian pianino stanno arrivando e vedi chi è pronto al decollo e allora quando sembra che tu sei un po' più pronto di questo aereo vai becchi questa data di rilascio e allora poi diventa un pochino più strutturata perché hai un tot di tempo e devi andare a vedere di stare entro il budget in quel tot di tempo chiaro e quando fai la presentazione ad esempio di un trattamento io mi immagino queste riunioni infinite con un sacco di gente e poi una pressione clamorosa perché sai voglio dire un nuovo film della Pixar c'è un'aspettativa ormai che se c'è il capello un pochino che non fluisce perfetto tu dici no però è inammissibile ormai uno si aspetta delle robe sempre clamorose ecco e quindi c'è una pressione addosso immagino pazzesca queste riunioni come funzionano? ma quando proponi è così è così presto nella nella cosa che non si sente la pressione quasi per cui sembra più potenzialità ovviamente c'hai c'hai un po' sai che la tua vita può cambiare se è un bivio non c'è dubbio perciò c'è un po' quella tensione personale però per la compagnia diciamo per tutti è un po' se non funziona non funziona però se bocchier che c'è qualche un'altra idea perciò non si sentiva proprio così magari la pressione pian pianino cresce mentre stai sviluppando perché ci sono momenti in cui non è ancora abbastanza buono e allora ti senti un po' un pugno nello stomaco e dico ok questo ultimo screening di questi animatics non è andato abbastanza bene perché ogni volta devi fare un passo avanti no perciò sono quelli momenti di crisi dove senti like qua qua non funziona dobbiamo cambiare qualcosa collaborazioni stanno tutti andando bene c'è qualcosa per cui la pressione la senti pian pianino si alza più che arrivi e poi arriva veramente quando devi andare in produzione perché ora devi iniziare ogni animazione devi iniziare tutte le cose in camera devono iniziare per cui è lì che la senti di più e ovviamente l'ultimo anno e mezzo se lì tutto deve essere a questo livello in effetti io l'ho visto un po' come voglio fare qualcosa di un po' diverso ed era quella un po' la sfida di andare magari a rompere un pochino il diciamo il canone pixariano di fare una storia un pochino più intima un pochino più di ragazzi e anche un look diverso siamo andati un po' a cercare di fare un look un pochino più giocoso un pochino più artistico espressionistico ed è stato devo dire Enrico molto apprezzato leggendo qui la chat Enzo Libro ad esempio su Facebook dice bellissimo film istruttivo per i bambini Ale c'era invece su YouTube ha una domanda per te che può essere carina ti chiede nella prima versione del film gli stereotipi sugli italiani erano maggiori perché io li ho trovati davvero bilanciati perfettamente fanno ridere ma non danno mai fastidio quando bisogna pensare agli stereotypes di ogni paese insomma di ogni cultura ecco come viene approcciato quel tipo di aspetto la la fortuna mia ovviamente è che io avevo la mia memoria sono partito da Genova 23-24 anni perciò avevo quella però sapevo che avevo bisogno di andare a controllare il test doveva doveva passare con la nonnina Ligure per la pasta e doveva anche passare per tutti che ci fosse un po' di amore nell'attenzione in cui guardiamo questi personaggi perciò avere aiuto culturale è molto d'aiuto per cui controllare con tanti italiani vanno italiani alla Pixar facciamo vedere le nostre bozze anche la Disney Italia è stata molto molto d'aiuto perché loro di solito fanno il doppiaggio ma li abbiamo un po' interpellati e portati nel processo presto abbiamo fatto questo bellissimo simposio di gesticolazione con loro quegli animatori su Zoom c'erano 15 italiani tutti facendo vedere come mandi al diavolo qualcuno tu sì no è stata bella in effetti per esempio quello è un buon esempio ho detto stai attento a questo perché quello può diventare un po' troppo usato quando lo usiamo lo usiamo in una maniera non usiamolo troppo perciò tanta attenzione secondo me specificità è sempre l'antidoto allo stereotipo e sì poi secondo me era per esempio con Ercole quel bilanciamento è stato molto importante perché Savero e Raimondo e gli animatori hanno messo insieme questo cattivone che ovviamente è italiano però ci voleva qualcosa di specifico esattamente secondo me è una delle mie animazioni preferite quando si muove intorno hanno fatto una gran bella animazione tante cose secondo me era anche Savero che ha portato qualcosa di buffo che non è solo cattivo Federico Ravaglia su YouTube dice un film veramente incredibile Amelia dice lo adoro Francesca Maggi invece dice ma no è lui il protagonista sei uguale al protagonista senza barba ma sei tu capito se qua dietro c'è una non lo so sì beh alle volte ci si ci si parlavamo dei capelli di Luca e questo lo chiamavamo il croissant per Luca perché sembra un croissant se lo guardi io un croissant pochino ce l'ho ma non troppo io non ce l'ho io non ce l'ho Enrico quindi io non posso essere guarda il vero Alberto non so se se qualcuno guarda su internet guarda foto abbiamo fatto appena un tuffo in Liguria due settimane fa mentre facevamo vedere il film ed è incavolatissimo perché dice capelli perché l'hai beccato tutti tu molto arrabbiato no ma direi che Luca ovviamente ha tanto di me però è un po' è un po' casuale che i capelli siano finiti uguali io sono senz'altro però quello era un po' timido era un po' vicino alla famiglia per cui c'è tanto della sua storia della sua della sua journey che è la mia Elvira Leonardo su Facebook ti dice una storia fantastica sulla diversità e sullo sguardo dei bambini rispetto ad esse dice ho amato molto il dettaglio della rivelazione delle due vecchine in finale sembra una cosa minore ma non lo è bravi ecco insomma quindi devo dire è incredibile poi come tu fai un film e ogni persona nota o resta colpita da dettagli molto diversi ognuno no? ha qualche cosa che per lui è importante o magari altri aspetti non li nota e poi spesso devo dire tu riguardi un film e noti nuove cose perché è pieno di dettagli no? un film di animazione è incredibile quante cose ci siano dentro e ogni volta ne scopri alcune alcune battute alcune cose che non avevi colto per cui è incredibile volevo chiederti una cosa quando hai come dire finito il film no? quindi dici ok pronto si è ancora in tempo per tornare indietro nel momento in cui lo fai vedere magari c'è un feedback molto negativo di gente che dice questo è pessimo così non può andare non so magari hai degli screening privati e le reazioni sono negative ci si può ancora fermare oppure la macchina è partita e quando hai deciso l'hai annunciato fine insomma quella cosa deve andare avanti come funziona? ma l'idea è ovviamente di avere opportunità per feedback quando puoi andare a fare gli ultimi rifinimenti se lo se hai proprio finito finito mi sa che anche a livello di industria di Hollywood lo mettono ma magari alle volte puoi notare che non ci mettono tanta forza di PR però devono metterlo fuori ci sono certi film che magari a livello di critica non fanno bene ma fanno bene commercialmente perciò non penso ci sarebbe modo di cambiare però noi abbiamo per esempio come ti dicevo lo guardiamo molte volte noi per cui continuiamo a dare feedback tra i registi Pixar e poi abbiamo anche facciamo una audience preview verso l'avevamo fatta guarda dicembre dall'anno scorso per esempio siamo riusciti e ci è andata molto bene perché c'era una settimana in cui hanno riaperto i cinema poi li hanno chiusi prima di Natale e siamo riusciti a fare un screening distanced e facciamo e sollecitiamo feedback per cui ti dicono questo funziona gli chiedi proprio cosa funziona cosa ti è piaciuto cosa non ti è piaciuto cosa potrebbe essere meglio e fai gli ultimi il film è già tre quarti fatto però riesci a fare gli ultimi aggiustamenti oh quello non era chiaro non ho capito questa cosa ok ci vuole una abbiamo proprio riscritto certe linee è dovuto rianimare anche un shot o due per cui cerchi di farlo il più possibile quando riesci a fare qualcosina per aggiustare il più possibile ok ho visto un sacco di curiosità sui doppiaggi e in generale sulle voci come funziona perché ho visto un'intervista ieri con sembra chi era Tarantino che diceva che ad esempio ai tempi di Pulp Fiction gli avevano chiesto la lista di tutti gli attori principali che lui avrebbe desiderato e come dire mi immagino che se tu dici ok la voce di questo personaggio chi vuoi tu dici non lo so il top ma vuoi il meglio del meglio chiaramente come funziona questa parte che indicazioni dai tu e come poi viene organizzata come vengono convolti gli attori o le attrici e intendi più nell'originale o veramente nel doppiaggio italiano o tutti e due ma nell'originale poi immagino il doppiaggio italiano abbia delle guidelines e faranno il loro casting esatto sì è un veramente diventa un processo proprio tutto suo noi iniziamo con voci che noi chiamiamo scratch cosa vuol dire sono temp vuol dire sono temporanea perché dobbiamo mettere su ovviamente questi palinsesti un po' schiacciati arrivi a un certo punto che dici ok dobbiamo cercare veramente la voce vera per i bambini è molto molto diversa perché hai tutte queste considerazioni di voce che cambia che è una cosa che veramente non ci ho dormito la notte perché per esempio il nostro bravissimo Luca Jacob Tremblay è proprio negli anni in cui poteva cambiare ogni ogni mese era pre diciamo pubertà cambio della voce per cui c'è quel problema extra ma abbiamo ascoltato tantissimi tantissimi bambini per i bambini secondo me la cosa importante è trovare qualcuno che veramente ha parte del personaggio dentro che lo siano naturalmente io volevo una veramente una performance che avesse un po' di naturale che fosse un pochino volevo metterci piccoli errori piccole ripetizioni far sì che si sentisse un pochino più alla buona molto semuina esatto perciò era importante che improvvisavamo un pochino e perciò è più facile se il bambino veramente ha un po' questo questo personaggio un po' dentro per i per tipi per gli attori quando vai a attori veramente famosi invece è bellissimo per dire ok Daniela la nostra mamma quando ho pensato a Maya Rudolph che è un mito della commedia qui di SNL Saturday Night Live molto molto seguito e vai veramente a pensare uh chi è che c'è qualcosa di perfetto per questo personaggio e lei ha questo calore di mamma orsa diciamo noi qui si chiama mamma bear protettiva ma anche è tosta e però senti quell'amore perciò per esempio quelle sono le cose a cui pensavo diciamo ah questa voce ha tantissimo di queste due belle cose Jim Gaffigan buffissimo è arrivato anche lui a improvvisare sapevamo che ci saremmo divertiti con i due genitori perché ovviamente la loro la loro B plot è di 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 tutta di abbastanza di divertimento ovviamente ma in quel caso come funziona tu dici ah io vorrei quest'attore o quest'attrice e Pixar Pixar si muove e chiama e dice ragazzi siamo qua e tutti si sono pronti a disponibili perché chiaramente tutti vogliono essere in un film Pixar sì ma alle volte è becchio no succede succede non ci credo sì 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 non c'è dubbio anche succede per esempio perché noi cercavo anche le voci italiane perciò non tutti immediatamente dicono sì voglio farlo e sì no è è un processo di solito sono interessati poi c'è anche la loro schedule perché per esempio siamo stati fortunati un po' perché Zoom in una maniera strana no registrando a distanza è diventata la cosa normale e allora Sasha Baron Cohen per Ancol Hugo non so se sarebbe successo se gli avessimo detto devi venire a Pixar ma invece era in Australia abbiamo è stato veloce per cui diventa quasi una cosa più positiva per questi certi di questi stars che sono molto ovviamente occupati presi impegnati volevo tornare sulla regia ancora dieci minuti poi ti lascio andare che so che sei presissimo la cosa che mi sembrava interessante era capire come viene fatta la regia di un film di animazione rispetto appunto a un film normale dove ci sono gli attori ce li hai lì è facile no facile è difficilissimo però come dire vedi esattamente no hai delle reazioni puoi parlare qua invece come viene fatto e anche tecnologicamente ero così un po' curioso di capire quale fosse il livello di evoluzione tecnologica anche di come vengono girati oggi ad esempio avevo visto non mi ricordo su quale film come venisse fatta la messa a fuoco in contemporanea di vari personaggi cioè ero sbalordito ecco anche dal livello di tecnologia che oggi è usato portaci un po' dietro nel tuo mestiere per capire come come lo fai ecco una volta che hai passato il pitch e quella parte lì e devi cominciare a direzionare directing e cosa si si nell'animazione diventano queste per esempio cinematografia di solito sarebbe uno con la telecamera è un DP un director of photography per noi vuol dire ci sono due persone layout DP che va a fare si dalle storyboard inizia a fare tutto in camera e le nostre camere la camera simula esattamente cosa è una camera su un set farebbe tutto un set virtuale praticamente facciamo questo è come pupazzetti e set ma tutto virtuale dentro un computer e le camere nel computer hanno la stessa c'è la f-stop c'è una lente per cui devi andare a scegliere fare un camera plan insieme per esempio alla camera DP per cui pensi molto a ok questo è un film di bambini metteremo la camera un pochino più bassa che tipo di linguaggio vogliamo io per esempio volevo limitare la camera non volevo farla volare dappertutto perché vuoi proprio farla un pochino più sentire come vera cinematografia fisica e poi lighting DP sono quelli che veramente vanno a fare lighting sono lavori diversi in live action sarebbero lo stesso lavoro perché ovviamente vedi attraverso la lente perciò dopo le storyboard dopo che hai risolto la storia inizi lì poi cosa succede hai dovuto dirigere la creazione dei pupazzetti che viene da art che viene da characters per cui devi formare questi pupazzetti e questi set virtuali per cui metti che ovviamente quello non è un lavoro da poco ma ce l'hai pronti li metti in camera e devi dirigere gli attori gli attori dell'animazione sono gli animatori gli animatori vanno a prendere il pupazzetto e muovono ogni piccola avatar che gli diamo per cui sono stati set up con tantissime opzioni di movimento e allora come regista vai a dirgli guarda questo shot ha bisogno di questa gesture e gli dice santa mozzarella e l'attore l'animatore va ti riporta lo shot e gli dai aggiustamenti perfetto questo è molto bello bravo alle volte molto collaborativo sono veramente i performer sarebbe come l'attore sul set e gli dici ma questo è buffo nelle storyboard riesci a farlo più buffo vai provaci perché è molto collaborativo molto additivo che mi piace la cosa lì e poi quando hai finito l'animazione c'è gente che va a fare i capelli sono simulati quelli sono un pochino più tecnici i vestiti per cui vai sei un pochino più di controllo come regia lì e poi lighting è l'ultima cosa effetti ci sono anche effetti ovviamente per esempio l'acqua tantissimo lavoro abbiamo dovuto metterci come va l'ondina bella un po' poetica andiamo un po' a disegnare come volevamo che gli effetti funzionassero per cui hai un team per tutte queste diverse cose li metti tutti insieme lighting è l'ultima cosa mette i bellissimi colori e tutto viene un po' rifinito e poi c'è sì c'è anche quello un po' dopo il lighting perché noi facciamo lighting proprio in camera anche quella è una simulazione di un set virtuale mettono veramente lucine piccoline in questo set virtuale e poi la regia finisce suono con una sonora quelle sono le ultime cose che fai a Skywalker Ranch che è bellissimo fra l'altro qui diciamo nel tempio del cinema che ha fatto Lucas dove vai a fare la post production perciò spero di averti dato un'idea un po' c'è tanto ma un po' più diviso è un pochino più diviso in department di una complessità a pensarci come siamo arrivati oggi al livello qui siamo siete arrivati è incredibile se penso solo vent'anni fa è stata un'evoluzione strepitosa e invece come spieghi questa capacità che avete in Pixar di continuare ad avere questa sorta di vena creativa infinita ma come fate a continuare qual è la cultura all'interno dell'azienda o magari le guidelines o come spieghi ecco che sia un'azienda che riesce continuamente a fare un mestiere difficilissimo perché tu devi creare dal nulla storie che devono piacere in tutto il mondo cioè dopo un po' anche i grandi artisti fanno magari un tot di pezzi e poi è finito cioè non escono più con niente invece Pixar continua ogni anno qual è secondo te il motivo ecco di un'azienda così ma sì è veramente un mistero è interessante secondo me le cose che vedo io sono una una buona volontà di prendere un po' di chance di prendere un po' di rischi su storie che non sono sempre ovvie secondo me c'è un amore verso la storia un pochino off the beaten path non sul sentiero molto già percorso già percorso secondo me era mi ricordo quando sono arrivato a Pixar cerco anche un po' di mettermi con quegli occhi nuovi stavano facendo un ratto che cucinava un vecchietto che porta la sua casa su una tepui un robot che non parla che era tutto silenzioso per tutto il primato e dicevo veramente prendevano delle storie stranissime interessanti e strane difficili anche secondo me quella è una cosa importante perciò se smetti di prendere un po' di rischi si finisce in formula nel formulaic diciamo e poi l'altra cosa segreta è che c'è tanto riscontro l'un con l'altro tanti registi di talento che si danno tanti perciò anche una persona come me arriva lì ho avuto tantissimo aiuto tantissimo ah magari potresti fare quest'altra cosa lì che è ancora più buffa di quella che hai o questo non funziona ancora devi ripensarci riscriverlo perciò e sono quelle due cose secondo me sono un po' i due ingredienti importanti c'è molto riscontro non c'è paura di non c'è non ti faccio vedere le mie carte perché poi lo metto fuori c'è molto riscontro e tanto che va ad aiutare ogni progetto a migliorare molta collaborazione per chiudere c'è una curiosità su Twitch da Fabio underscore 00 che dice una curiosità perché Gino da Campo ha doppiato originale non anche in italiano peraltro dove intervistare Gino la prossima settimana tra dieci giorni è famosissimo Gino da Campo e anche nei Stati Uniti in Italia invece Gino è molto direi quasi sconosciuto forse sì è interessante è stata un'idea del del team Disney in Inghilterra io non lo conoscevo a dire a dire a vita lo conoscevo ho visto su internet parlavamo di accenti di accenti veri e ovviamente Gino ha un bellissimo accento forte e perciò e per quello che è successo quella voce avevamo fatto in loop group loop group vuol dire che hai voci di personaggi minori che vai hai un gruppo di persone e vai a registrarle tutte insieme perciò non avevamo fatto un casting specifico per lui e quando sono arrivati a noi con questa idea ho detto oh ok benissimo è stato buffo è stato bello conoscerlo abbiamo fatto uno zoom velocissimo mentre gli dava un po' di direzione per cui è stato bello conoscerlo molto simpatico probabilmente ha doppiato mentre stava cucinando i suoi spaghetti le sue robe se fai cucinare grande senti complimenti davvero complimenti da tutta la chat Dade Brian su youtube dice non vedo l'ora di vederlo ne stanno parlando tutti benissimo Luca veramente strepitoso e quindi invito tutti ad andare a vederlo Enrico ci teniamo in contatto se passi da Brighton ti porto qua a fare il giro sulla spiaggia se passo io vengo a trovarti in Pixar insomma però complimenti avanti di tutta e prossimi progetti hai già come dire mille altre cose che voglio ripeto o ti fermi un attimo insomma mi sì no il progetto è un po' di vacanza è un progetto non da poco perché la famiglia cioè meno male che eravamo a casa almeno mi vedevano un po' però è stato è stato un 2-3 anni molto intensi perciò un mese un mese e mezzo me lo prendo con calma e poi sì si rinizia nell'autunno a pensare ai prossimi progetti fantastico Enrico mi ha fatto veramente piacere conoscerti buon gruppo per tutto alla prossima grazie tantissimo ciao 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 ciao